Buonasera a tutti. Vi ringrazio di esservi collegati ancora una volta per il nostro appuntamento settimanale sui profeti. Stiamo studiando il profeta Amos, come è noto, un profeta che ci richiama anche a temi di attualità in questo periodo così difficile della nostra storia. E voglio rinnovare ancora una volta Kadosh Baruch Hu, a nome di tutti, la preghiera perché questa incresciosa situazione si risolva al più presto, che i feriti guariscano, che le persone mancanti tornino in pace e in salute alle rispettive famiglie, che possiamo riabbracciare veramente tutti e che coloro che purtroppo hanno perso la vita abbiano il meritato riposo nel Gan Eden. E a questo proposito voglio ripetere la lettura consuetta del Salmo 121, come siamo abituati a fare ormai da diversi settimanale. Salmo 121 Salmo 121 Salmo 121 Salmo 121 Salmo 121 Salmo 121 Riprendiamo a questo punto il nostro studio. Siamo arrivati a cominciare, se non erro, il quinto capitolo di Amos. Volevo prendere oggi in considerazione i primi versetti di questo capitolo, leggerli in italiano nella traduzione di Rav di Segni, la pagina 299 dei profeti posteriori, e poi naturalmente commentarli come siamo abituati a fare. Il profeta si rivolge alla gente di Israele e dice loro, ascoltate gente di Israele questa elegia che io pronunzio per voi. È caduta senza più potersi risollevare la Vergine di Israele, giace abbattuta al suolo senza che nessuno la risollevi. Poiché così dice il Signore Iddio, la città che in mezzo alla gente di Israele contava mille abitanti resterà con cento e quella che ne aveva cento rimarrà con dieci. Poiché così dice il Signore alla casa di Israele, cercatemi e vivrete. Ma non cercatemi a Betel, non recatevi a Gilgal e non passate per Beersheba, giacché Gilgal sarà esiliata e Betel distrutta. Cercate il Signore e vivrete, affinché non invada come fuoco la casa di Giuseppe e non di voi senza che vi sia alcuno a spegnere, Betel. Ci fermiamo qui, abbiamo letto i primi sei versetti. Penso che siano sufficienti per farci un quadro tragico della situazione cui il profeta evidentemente si riferiva. A chi si rivolge abbiamo detto alla gente di Israele e sappiamo sia per gli studi fatti sulla biografia che per i capitoli precedenti che abbiamo studiato che verosimilmente, e così concordano nel dire tutti i commentatori, che qui gente di Israele si intende il Regno del Nord. Si incende appunto il cosiddetto Regno di Israele, o Regno di Efraim, formato dalle dieci tribù, in contraposizione con il Regno del Sud, o Regno di Euda, sul quale rimaneva regnante la casa di Davide. È un discorso che abbiamo fatto appunto tante volte. Che cosa rivolge il profeta a queste persone che secondo molti sono anche i suoi compatrioti? Una kinah, una elegia. Kinah è un termine tecnico che indica un genere letterario che nel Tanakh è attestato. La elegia, abbiamo diverse elegie nel Tanakh, sono lamenti in poesia su situazioni tragiche, su situazioni negative che possono andare dalla morte di una persona fino a tragedie nazionali. Abbiamo un intero libro di elegie, scritto, attribuito al profeta Yirmiyahu, il libro di Echa, le cosiddette lamentazioni di Geremia, che sono entrate nella Tefillah, nel Bet HaKnesset, il giorno di Tishabehav, il digiuno, in cui commemoriamo la distruzione dei due templi di Gerusalemme. Quello è un esempio, diciamo così, di elegia che è diventata libro, che esprime compiutamente una forma letteraria. Anche qui abbiamo la stessa cosa. Vedremo come questo testo nostro che è presentato appunto come kinah, come questo concetto qui si esprime. e quindi abbiamo appunto una kinah che il profeta rivolge al regno di Israele. Abbiamo parlato del profeta Geremia ed è con un versetto del libro di Yirmiyahu che voglio anzitutto confrontare il nostro testo. Che cosa dice il profeta Geremia nel capitolo 9 del libro a lui intitolato? Geremia, l'abbiamo già accennato, profetizza in un'epoca posteriore alla nostra. Profetizza dopo l'esilio delle dieci tribù, di cui qui chiaramente Amos parla, quando ormai era rimasto soltanto in auge il regno di Yehuda, dove Geremia viveva, a Gerusalemme, e pronostica l'arrivo futuro dei babilonesi che distruggeranno il Tempio. C'è una differenza fra la kinah che il profeta Geremia rivolge lì e la nostra di Amosqui. Almeno due differenze che i nostri commentatori sottolineano. Ma vediamo cosa dice il profeta Geremia capitolo 9 verso 16. Così dice il signore degli eserciti, preparatevi mentalmente, chiamate le prefiche affinché vengano. Sì, perché la kinah, il genere letterario di cui stiamo parlando, era affidato alle prefiche, cioè alle lamentatrici professioniste. Come si vede ancora in qualche film d'epoca sulla Sicilia, per intenderci. Si vede la scena del morto circondato da queste donne vestite di nero che levavano lamenti per il morto e verosimilmente in molti casi erano anche pagate per farlo, per suscitare il cordoglio. E dobbiamo immaginarci che a Yerushalayim, al tempo di Geremia, avvenisse qualcosa di molto simile. Chiamate le esperte, dice il profeta, mandate a chiamarle affinché arrivino. E levino un lamento su di noi, dice il profeta Geremia, qualche anno più tardi di Amos. E le nostre palpebre, letteralmente, stilino acqua. Perché una voce di lamento si ode da Zion come siamo stati depredati, Siamo stati umiliati, avendo dovuto abbandonare la terra per andare in esilio, poiché il nostro santuario è stato gettato a terra. Fin qui la citazione di Geremia. Quali sono le differenze rispetto al primo versetto del capitolo 5 di Amos che stiamo analizzando? Lo leggiamo ancora una volta partendo dall'ebraico. Ascoltate, gente d'Israele, questa parola, letteralmente, Asher Anokhi Nose Alechem, che io elevo su di voi, Kina, una elegia, Beth Israel, casa di Israele. Quali sono le differenze? La prima differenza è che Amos parla in seconda persona, mentre Geremia più tardi parlerà in prima persona. Amos dice Alechem, su di voi, mentre Geremia dice Alenu, su di noi. Qual è il motivo della differenza? Spiegano i commentatori che Amos si riferisce al Regno del Nord mentre Geremia si riferisce a Yerushalayim, al Regno del Sud. Vedremo più avanti nei versetti successivi di Amos, ma lo sappiamo già, che come Yerushalayim era il santuario ufficiale del Dio di Israele nel Regno del Sud, i re del Nord avevano creato dei santuari alternativi. E quindi, da questo punto di vista, possiamo immaginare un parallelismo. C'è una differenza che emerge dallo diverso stile dei due profeti. Geremia, parlando di Yerushalayim, parla in prima persona, coinvolgendo anche se stesso nell'elegia che sta pronunciando. Perché? Perché a Yerushalayim era presente la Shekinah. Era presente Dio in persona. Mentre nei santuari del Nord Dio non è presente. La Shekinah non è con lui, non è con loro. E quindi il profeta che in persona la Shekinah si tira fuori dal discorso e si rivolge a loro in seconda persona come se lui non ne fosse coinvolto. È interessante effettivamente questa differenza. La seconda differenza passa per il fatto che, viceversa, Amos, parlando al Regno del Nord, eleva la Shekinah lui stesso, mentre Yerushalayim, più tardi, riferendosi a Yerushalayim, non eleva qui la Shekinah lui stesso, ma chiama le prefiche, le esperte, le professioniste a farlo al posto suo. Il Midrash osserva anche questa differenza e la commenta. Amos nella storia viene prima. Kadosh Baruch Hu, che passa attraverso il profeta, alla prima disgrazia del popolo ebraico, che è l'esilio del Regno del Nord ad opera degli Assiri nel 722, ha ancora la forza di lamentarsi per questo in prima persona. Col secondo esilio, quello di Yerushalayim e di Yehuda, ad opera dei Babilonesi nel 586, quasi un secolo e mezzo dopo, alla seconda esperienza, Dio dice non ho più la forza di lamentarmi e affido la cosa a delle professioniste. Sono interessanti effettivamente queste due interpretazioni che penso ci prendano molto e ci consentano anche di collocare nello spazio e nel tempo i due contesti. Questo per quanto riguarda la parola Alekhem. Passiamo ad analizzare dal punto di vista del contenuto la parola Kinah che significa elegia. Qual è la elegia che rivolge qui il profeta Amos al Regno di Israele? La prima distruzione, quella ad opera degli Assiri che sta per arrivare. Leggiamo il verso 2. In ebraico E' una elegia tremenda, effettivamente. E i commentatori si domandano perché non è chiamata profezia. Profezia ed elegia sono due cose diverse. Nevoa e Kinah hanno due tempistiche diverse. La nevoa si riferisce al futuro. La profezia si riferisce al futuro. Mentre la Kinah, la elegia, come è chiamata qui, si riferisce al passato dopo che i fatti tragici sono avvenuti. Effettivamente il profeta ha cura di definire questo messaggio non come una profezia riferita al futuro, annunciata prima degli eventi, bensì come un lamento pronunciato dopo gli eventi, dopo che abbiamo constatato quello che nel frattempo è successo. Cosa sarebbe successo altrimenti? Che il popolo si sarebbe depresso. A nessuno fa piacere sapere che cadrà e non si risolleverà più. E' una accortezza, evidentemente, che il profeta vuole utilizzare per rispetto del popolo, nonostante le sue malefatte, diciamo così. Cosa significa letteralmente il versetto? Nafela è caduta. Loto Sifcum non seguiterà ad alzarsi. Betulat Israel, la Vergine di Israele. Nitesha ha due significati, o più esattamente, è un verbo che contiene insieme due significati. Contiene insieme l'idea dell'abbandono, ma anche del precipizio. Per cui possiamo tradurre, qui è tradotto molto bene, giace abbattuta. La traduzione italiana qui rende entrambe le idee, evidentemente. L'idea dell'abbattimento, dello scaraventamento e anche dell'abbandono, del fatto di giacere abbandonata senza che nessuno la soccorra e nessuno la risolleva. Betulat Israel è un epiteto che noi troviamo spesso nei profeti. La Vergine di Israele. Che cosa indica? Beh, la verginità indica uno stato di purezza originario, evidentemente, che al popolo di Israele non può essere negato. Osservano però i commentatori che la verginità è qualcosa che una donna è destinata a perdere e nel momento in cui la perde, la perde per sempre. E alcuni dei nostri mefaregin effettivamente dicono che almeno in questo caso l'epiteto si riferisce al fatto all'indipendenza che il Regno di Israele perderà e la perderà per sempre. Il Regno di Israele ancora oggi non è mai più stato ricostituito dopo l'esilio degli Assiri del 722. E nel momento in cui arriverà il Mashiach non sarà più un Regno indipendente come all'epoca di Amos. Le dieci tribù ritorneranno ma saranno inglobate nell'unico Regno di Yehuda, sotto l'autorità del discendente della casa di David a Yerushalayim. Quindi anche se il Regno del Nord si ricostituirà con l'avvenuto del Mashiach non sarà più un Regno indipendente. Secondo alcuni questo è il significato dell'epiteto Betulatis Reel in questo caso. Per questo il profeta utilizza proprio questa espressione. Niteshah al-Admatah è anche interessante perché se il profeta qui pronostica l'arrivo degli Assiri e l'esilio, è strano che usi un'espressione dove dice giace abbattuta letteralmente sulla sua terra. Qui è tradotto al suolo, ma su questo punto la traduzione che abbiamo meno precisa, al-Admatah vuol dire sul suo suolo. Il profeta forse ci vuol dire che il male dell'esilio, che il male che provoca l'esilio, in realtà è presente fra di noi molto prima che l'esilio si realizzi, quando siamo ancora apparentemente sovrani sulla nostra terra. Ed evidentemente in queste due parole è contenuto un rimprovero piuttosto aspro. Cari miei confratelli, avreste dovuto pensarci prima. Già adesso, prima che arrivino gli Assiri, non saranno gli Assiri a provocare la vostra fine. Siete voi stessi che avete provocato la vostra fine già mentre siete ancora sulla vostra terra, mentre credete ancora di essere sovrani. È un'improvero molto forte che va molto al di là, diciamo così, della situazione a quale effettivamente si rivolgeva in quel momento. Interessante. Ma quello che è più interessante è la prima parte del versetto Nafla Loto Sifkum, tradotto da Rav di Segni, è caduta senza più potersi risollevare. Abbiamo detto che, se fosse stata una profezia, avrebbe risuonato molto male alle orecchie del popolo un messaggio, una previsione di questo genere, perché significava non avere più un futuro. Abbiamo visto che storicamente tutto questo ha una base, effettivamente si sarebbe verificato. Però è chiaro che si tratta di un'immagine estremamente forte, forse insostenibile in un certo senso per il popolo. Questo versetto, incidentalmente, smorza la speranza in una risurrezione, che troviamo effettivamente espressa in altri versetti del Tanakh. Per esempio c'è un altro versetto che dice Utilizzando gli stessi verbi Nafal, cadere e Kum, rialzarsi, che troviamo qui. Il versetto gli dice Sette volte può capitare al giusto di cadere, ma essendo un giusto si rialza sempre. L'antifrasi qui allude al fatto che evidentemente la gente di Israele, cui in questo momento Amos sta rivolgendo, fosse tanto zaddikin, tanto giusti non erano. E non avrebbero meritato quello che invece l'altro versetto prometteva. Interessante questo. Se non che nella storia questo versetto ha lasciato una traccia. perché quando parliamo a questo punto di esegesi post biblica, dobbiamo tener conto di coloro che per secoli hanno sostenuto che il popolo ebraico in toto non avrebbe avuto un futuro. Che il popolo ebraico doveva essere condannato per il fatto essenzialmente di non aver accettato un'altra divinità e un'altra religione. Mi riferisco ovviamente ai polemisti cristiani. Ed è probabilmente a loro che si riferisce un passo del Talmud, del Trattato Berakhot, che voglio studiare brevemente con voi, che cita il nostro versetto. Il Trattato Berakhot si occupa delle benedizioni e quindi delle tefillot in senso lato. E c'è un Salmo che noi recitiamo nelle nostre tefillot quotidiane tre volte al giorno. Questo Salmo è il Salmo 145, a cui premettiamo due versetti iniziali che cominciano entrambi con la parola Ashre. E quindi questo Salmo, anche in questo passo del Talmud, già è noto come Ashre. Ashre yosh revete chabeati, coloro che siedono nella tua casa. E ha una caratteristica, quella di essere un acrostico alfabetico. Cioè, comincia con l'Alef, il primo versetto comincia con l'Alef, il secondo con l'Abet, e via fino alla Tav, Teila, Tashemi ed Abelpi. Dopodiché si aggiunge ancora un altro versetto proveniente da un altro Salmo. Va'anachnunevarechgame, atave, adolama, alleluia. In mezzo c'è un acrostico alfabetico. Ogni versetto comincia con una lettera successiva dell'alfabeto. Ma ha una caratteristica, questo acrostico alfabetico, che manca totalmente il versetto con la lettera Nun. Abbiamo il versetto della lettera Mem. Malchuttecha, Hashem, malchut kol olamim, un memsaltecha, bechol dor vador. Dopodiché si passa alla samech, si salta la Nun. Sommech Hashem lechol hanopeliim, vezokef lechol hakefufin. Kefine affatto la Nun. Ma vediamo il passo del Talmud, per esteso sono poche righe. Amar Rabbi El Azar, amar Rabbi Avina, disse Rabbi El Azar a nome di Rabbi Avina, kol haomer Tehillale David bechol yom salospe amim uftakhlos e hubena olam abba. Chiunque dica questo Salmo, che comincia realmente con le parole Tehillale David, l'ode di David, ogni giorno tre volte, gli è garantito il mondo avvenito. Così dice Rabbi Avina nel Talmud. Domanda nel Maestro Imaita Amar, per quale ragione? Ile ma mishum de atia beale fbet. Se diciamo, per via del fatto che è un Salmo acrostico, alfabetico, che comprende tutte le lettere dell'alfabeto e quindi idealmente esprime tutte le lodi possibili di Dio, al punto che chi compie questo atto meritorio meriti l'olam abba, ce ne sono altri di Salmi che hanno questa caratteristica. Anzi, c'è il Salmo 119 che ha l'acrostico ripetuto per otto versetti ogni lettera. 22 lettere dell'alfabeto per otto fa 176 e di gran lungo è il Salmo più lungo che esista. Perché non dire quello? Neima ashrate mime darek de atia bit mani api. Dice il Talmud. Il motivo per cui ashrè è così importante da suscitare l'olam abba in chi lo recita tre volte al giorno. Il versetto di questo Salmo, che comincia con la lettera P, è quello che dice richiama il fatto che gli alimenti derivano da Kadosh Baruch Hu. Il motivo per cui lo recitiamo tre volte al giorno è in corrispondenza dei tre pasti quotidiani. E se noi sappiamo ringraziare per i tre pasti quotidiani ogni giorno recitando per ciascuno ashrè ogni volta, ringraziamo Kadosh Baruch Hu e ci darà l'olam abba, ci darà il mondo a venire. Ma anche su questo, domanda al Talmud, c'è un altro Salmo in cui l'argomento degli alimenti e parimenti trattato, ed è la Lela Gadol, che recitiamo in realtà la sera del Seder, alla fine del Seder, il Salmo 136, in cui è scritto a un certo punto Dio dà pane a ogni creatura perché grande è la sua misericordia, perché non recitare quello? E' la Mishum Dei Beitarte, dice il Talmud. In realtà la superiorità dell'ashrè, del Salmo 145, di cui stiamo parlando ora, deriva dalla combinazione dei due motivi. Sia è un acrostico alfabetico, sia c'è il riferimento a Dio come fornitore degli alimenti. E qui tocchiamo il punto. E' un acrostico alfabetico? Amar Rabi Yohanan, domanda Rabi Yohanan, Mip Nei Ma Lo Nei Mar Nun Beashre. E' un acrostico alfabetico? Zoppicante. Perché? Perché manca, come dicevamo, il versetto che comincia con la lettera Nun. C'è una lettera mancante, la lettera Nun. Risposta. E qui arriva la citazione del nostro pasuk. Mip Nei Shei Eshbama Paltan Shelson E Israel. Perché? Dietro la lettera Nun, che è l'iniziale del verbo Nafal, che significa cadere, contiene un accenno al crollo dei figli di Israele per i loro peccati. Dirti, come è scritto, Nafla lotosif cum betulat Israele. E' caduta senza più potersi rialzare la Vergine di Israele. E il nostro pasuk, qui citato, comincia con il verbo Nafla cadere, che inizia a sua volta con la lettera Nun incriminata. E qui la Gemara dice che i Chachamim sono corsi, per così dire, agli ripari. Perché questo versetto suscitava certamente imbarazzo, in particolare in Erez Israel a contatto con la nascente comunità cristiana che accusava gli ebrei di esilio perpetuo per non aver accettato il loro salvatore. Motivo storico. Guardate come dietro queste esegesi ci sono a volte dei conflitti ideologici, intellettuali e spirituali di notevole portata. E il Talmud dice a questo punto, Bema Arva, in occidente, cioè in Erez Israel, riparavano la breccia rappresentata da questo versetto che annuncia la caduta perpetua del popolo di Israele, cosa che nessuno di noi può sopportare un'idea del genere, leggendola in maniera diversa. Nafela veloto sif lin pol od cum betulat Israel. Nafela loto sif, è caduta, non seguiterà sottinteso a cadere più, alzati o vergine di Israele. Con un'abilità tutta loro i Chachamim capovolgono il significato letterale di questo versetto. E riferiscono l'oto sif, non seguiterà, non al cum, rialzarsi che segue, ma al nafela e caduta che precede. Il Ben Ishkai, nel suo commento Ben Yoriadah al Talmud, osserva che ciò che ha reso possibile questo capovolgimento dell'interpretazione da parte dei Chachamim, è il fatto che qui il versetto avrebbe dovuto esprimere il soggetto subito dopo il primo verbo. Il verbo. Normalmente in ebraico biblico, prima viene il verbo e poi viene il soggetto, diversamente da quello che succede in italiano, dove prima scriviamo il soggetto e poi il verbo. Però attenzione, non rimandiamo il soggetto così in avanti nella frase. Dopo il primo verbo inseriamo il soggetto, per cui anche qui ci saremmo aspettati che Amos dicesse nafela betulat Israel, è caduta la vergine di Israele, loto sif kum, non seguirà rialzarsi, non seguiterà rialzarsi. E se Amos si fosse espresso così, dice il Ben Ishkai, l'interpretazione capovolta dei Chachamim non sarebbe più stata possibile. I Chachamim hanno giocato sul fatto che loto sif è immediatamente preceduto da nafla e seguito da kum, mentre il soggetto betulat Israel viene solo alla fine di tutto. E quindi loto sif non seguiterà, è ambiguo. L'interpretazione letterale lo riferisce a quello che segue, non seguiterà rialzarsi. Ma in realtà, secondo i maestri del Chachamim di Erez Israel all'epoca del Talmud, si è liberi di interpretare loto sif, non seguiterà, riferito al verbo che viene prima, nafela, non seguiterà a cadere, se questo è anche successo una volta. Kum, e qui kum, in grammatica, può avere due significati. Kum, alzarsi, è interpretato alla lettera come un infinito. ma kum può anche essere un imperativo. alzati, o vergine di Israele. E in questo modo si capovolge tutta quanta la visione dell'Akinah, la visione dell'Elegia, ammesso che contenga un elemento profetico, in ogni caso. è interessante effettivamente questo fatto. Per completare il testo del Talmud, prima di tornare ad Amoros, Amar Rav Nachman Bar Yitzchat, un'altra spiegazione che il Talmud inserisce, ha filuache, benché manchi volutamente una menzione della caduta di Israele in Ashre, dove manca il versetto con la lettera dunn di nafela, achi chazar david, usmachan beruach akodesh. Comunque, David ha voluto puntellare i figli di Israele in spirito di santà, in spirito profetico. Perché? Perché David è vissuto molto prima di Amos. E quindi David, che ha scritto i salmi, ha voluto lo stesso sostenere il popolo di Israele in spirito profetico molto prima che Amos ne annunciasse la caduta. E cosa ha detto nel verso successivo, che comincia con la lettera Samech? Samech Hashem lechol anofelim. Hashem sostiene tutti i cadenti. Cosa vuol dire tutti i cadenti? Tutti quanti. Nessuno è escluso. Nessuno potrà mai dire che il popolo di Israele è escluso dal sostegno di Kadosh Baruch Hu. E se anche è caduto? È caduto evidentemente. Anche se non ce la fa da solo, Kadosh Baruch Hu lo rialzerà. Questo è il senso del discorso. Incidentalmente sommere il mio cognome, ma vi assicuro che non c'entra niente con il messaggio di Amos evidentemente. Lo Zohar, alcuni secoli non sappiamo quanti dopo il Talmud, c'è chi dice che la matrice dello Zohar è della stessa età talmudica in realtà, cioè i testi della Kabbalah, spiegano effettivamente questo versetto in questo modo. e cioè lo spiegano alla lettera, che la Vergine di Israele è caduta senza più potersi risollevare da sola. Ma con l'aiuto di Kadosh Baruch Hu si alzerà e nessuno potrà dire che l'esilio o la caduta di Israele è un fatto eterno. E che effettivamente sia così e che Kadosh Baruch Hu ci dia la possibilità di rialzarci al più presto. A questo punto vediamo i versi successivi in Amos. Verso 3 in ebraico Poiché così dice il Signore il Dio Letteralmente la città che esce con mille farà rimanere cento. Cosa vuol dire la città che esce? Molto probabilmente qui è tradotto la città che in mezzo alla gente di Israele contava mille abitanti, ma il verbo usato qui è il verbo uscire. Con soggetto la città del testo ebraico originale. I commentatori dicono che probabilmente si tratta di un'uscita militare. La città che è in grado di fornire mille soldati alla guerra anche in italiano diciamo che una città esce o una squadra esce con tot persone per indicare il numero dei componenti della squadra. Verosimilmente questo è l'uso dell'espressione che fa Amos con riferimento come dicevo come riferimento alla guerra. A Ir Ayotzet Elef la città che esce che è in grado di uscire con mille soldati ne farà rimanere cento. E la città che esce con cento soldati ne farà rimanere dieci per la casa di Israele. riferimento sempre al Regno del Nord evidentemente. E si vuol dire che con l'arrivo degli Assiri non solo la popolazione andrà in esilio ma rimarrà con un'identità ebraica soltanto il dieci per cento del totale. Questa è un'immagine che troviamo anche nel sesto capitolo di Yeshayahu più o meno alla stessa epoca di Amos quando dice Il popolo ebraico sarà consumato usiamo questo verbo per non usarne altri magari più letterali ma meno simpatici sarà consumato ma ne rimarrà un decimo Zera Kodesh Mazzavta che è la stirpe santa del suo tronco il dieci per cento del popolo ebraico evidentemente è destinato a sopravvivere alla venuta del nemico soltanto il dieci per cento pensate un po' anche se noi in realtà come dicevo prima di questi dieci tribù nonostante vari tentativi che nella storia sono stati fatti per ripescarli non ci siamo mai riusciti non sappiamo esattamente che fine abbiano fatto in ogni caso quello che segue nei versi successivi è una requisitoria su argomenti che in parte abbiamo già toccato abbiamo già conosciuto Chichó amar hashem leveti sa'el poiché così dice il Signore alla casa di Israele bellissimo Cercatemi e vivrete bellissima questa espressione cercatemi per bocca del profeta e solo questo vi darà la vita non ci sono alternative il profeta qui parla in maniera estremamente chiara out out o dalla parte di Dio o morirete e in particolare cosa non dovete cercare al posto di Dio verso 5 ma non cercatemi a betel così traduce potrebbe anche significare più semplicemente ma non cercate betel e non passate per be'esceva e non passate per be'esceva chi ha gilgal galo igle giacché gilgal sarà esiliata qui è tradotto e betel sarà distrutta Soffermiamoci sulla prima parte del versetto Proviamo qui i nomi di tre luoghi Di questi tre luoghi ne conosciamo bene già due Perché erano nominati nel capitolo precedente E sono i primi due Bet El e Gilgal A Bet El, il re Geroboamo Istituendo il regno separato del nord Alla morte di Shelomò Aveva dirottato, aveva creato un santuario alternativo Dedicato al Dio d'Israele Attenzione, non all'idolatria Al Dio d'Israele Ma era un santuario alternativo Per evitare che i suoi sudditi Si recassero tre volte all'anno Chiedo scusa a fare peleguinaggio a Yerushalayim Nel regno rivale Quindi per confermare sul piano religioso Lo scisma politico appena avvenuto E per quanto riguarda Gilgal Possiamo immaginare che anche questo luogo Fosse stato elevato A santuario in qualche modo Perché? Perché è il luogo dove Yerushua Aveva radunato per la prima volta il popolo A fare il primo Pesach in terra di Israele Dopo il passaggio del Giordano Bet El del resto A sua volta, lo ricordiamo È il luogo dove Yacob aveva sognato L'angelo La scala La scala con gli angeli Quindi erano due luoghi simboli Del passato remoto della nazione Beersheba 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 è un nome nuovo qui Ed è problematico perché? Perché Beersheba e le Gilgal Sono località del nord A cui come abbiamo visto Amos si rivolgeva Beersheba, la grande città Che noi conosciamo ancora oggi E che risale ai tempi di Avraham Avinua Che questo è un luogo storico Di grande importanza Si trovava a sud Si trovava nel regno di Yerushalay E allora come la mettiamo? Alcuni commentatori dicono Che la Beersheba di cui si parla Qui è una città del nord Che non ha niente a che vedere Con quella che noi conosciamo oggi Ma la maggior parte dei commentatori Non è soddisfatta di questa interpretazione Perché Beersheba qui È nominata insieme ai luoghi storici Della nazione E certamente deve riferirsi Alla città del sud Consacrata dalla presenza di Avraham Nostro padre a suo tempo Inoltre Non c'è qui una polemica Contro l'idolatria Cioè contro dei culti alternativi A quello del Dio di Israele Verosimilmente il versetto va tradotto Cercatemi Ma non cercate Questi santuari Dove comunque Io vengo adorato Ma non vengo adorato regolarmente In modo corretto Questo probabilmente è il messaggio E allora Cosa vuol dire qui Dio è il profeta al popolo? Alcuni commentatori Andre Neher stesso Che questi versetti li affronta Come abbiamo già visto In modo molto moderno Pensa che qui Non ci sia il riferimento Ad un culto sacrificale Del resto Beersheva Non è noto come santuario È noto come città Santa Come città storica Ma non come santuario Propriamente detto Cioè luogo di sacrifici Ma verosimilmente Dice Andre Neher Qui il riferimento è A una sorta di Quella che noi oggi Potremmo chiamare Politica delle indulgenze Ci sono delle religioni Che fanno credere Ai loro addetti Che se visitano Un certo luogo Ottengono il perdono Di tutti i loro peccati È sufficiente Visitare quel luogo Attraversare Un certo uscio Una certa porta E con quello Passano tutti i mali È possibile Che il profeta Si riferisca qui A un comportamento simile Da parte degli israeliti Cioè dei abitanti Del Regno del Nord Nei confronti Di queste città sante Santificate Non da Dio Ma santificate Dalla storia Del popolo di Israele Fin dai primordi Probabilmente E che quindi Avevano certamente Un carisma particolare Agli occhi Agli occhi del popolo Questa è Una possibile Interpretazione Ce n'è un'altra? Se questo fosse Veramente Il motivo Non capiremmo Perché il profeta Qui nominando Beersheba Non nomina Anche Yerushalay Se la critica È alla visita Dei santuari Perché non Includere Anche Yerushalay Ma anche Forse il santuario Accreditato Diciamo così E allora L'osservazione Potrebbe essere Diversa Che la critica Qui È nei confronti Di chi si reca Ai santuari Alternativi Che fossero Nel regno del nord O nel regno del sud Non ha importanza E che il verbo Tidreshu Dirshu Cercatemi Allude Invece Non soltanto Al Dio di Israele Ma anche A Yerushalayim Stessa E che qui quindi Il profeta Si rivolge Al popolo E dice Loro Non andate In quelle tre città Andate Tornate Piuttosto A fare Il pellegrinaggio A Yerushalayim Qual è la base Di questa interpretazione Il fatto Che nel capitolo 12 Del libro Di Devarim Il verbo Darash Che significa Cercare È utilizzato Specificatamente Per i pellegrini Che vanno A Yerushalayim È interessante Nel libro Di Devarim È scritto Che i pellegrini Che si recavano A Yerushalayim Non potevano Contare Su una segnaletica Stradale Perché? Non perché Il codice Della strada Non fosse in uso Ma per una ragione Più profonda Il versetto Lì dice Cercherete Presso I vostri vicini E arriverete Lì A Yerushalayim Le informazioni Stradali Non erano Assegnate A cartelli Per arrivare A Yerushalayim Ma Si voleva Che il popolo I pellegrini Dovunque Transitassero Domandassero Alla gente Del luogo Qual è il seguito Della strada Che dovevano Percorrere E in questo modo Ci sarebbe stato Un affratellamento Della popolazione Splendido Questo spiega La connessione Fra il verbo Darash Cercare E La meta Che era Yerushalayim Anche qui Probabilmente Dir shu Cercatemi Significa Cercatemi A Yerushalayim Riprendete Questa tradizione Lasciate perdere Questi falsi Santuari Che I vostri Re Hanno creato Ritornate Da me A Yerushalayim E questo spiega Perché il nome Di Yerushalayim Non appare E perché invece Appare Il nome Di Beersheva Che era comunque Una città Del regno Rivale Questi commentatori Diranno Che probabilmente I re del nord Non erano Infastiditi Dal fatto Che I loro cittadini I loro sudditi Si ricassero In pellegrinaggio Nella città Di Beersheva Ancora che Appartenesse Al regno Rivale Perché Beersheva Non era un santuario Accreditato Presso La dinastia Rivale Della casa Di Davide A loro Importava Soltanto Che I loro sudditi Non arrivassero A Yerushalayim In polemica Con questo Amos Li invita Proprio A tornare A cercare Dio A Yerushalayim O a cercare La strada Per Yerushalayim Secondo L'antica Tradizione È una serie Di immagini Evidentemente Molto forti E qual è La giustificazione Che il profeta Dà A tutto questo Chi ha Gilgalgalo Yigle Questo verso Va letto in ebraico Perché soltanto La lettura in ebraico Ci dà Lo scioglilingua L'allitterazione Che troviamo qui Che non può essere Resa adeguatamente In nessun'altra lingua Poiché Il Gilgal Galoi Yigle C'è un gioco Di parole Su Gilgal Mettendolo in relazione Con la radice Galà Che significa Andare in esilio Poiché Giacché Gilgal Sarà esiliato Gilgal A sua volta È connesso Con la parola Galgal Che significa Ruota E i nostri maestri Quando parlano Della povertà Dicono che La povertà È un galgal Che cos'è Baolam È una ruota Che gira nel mondo Ecco che la ruota Simboleggia qui La versatilità Delle condizioni umane E anche La previsione Di una punizione Tutto rientra Evidentemente Tutto Come si dice Tutto ruota Intorno a se stesso Perfettamente Uvet el Iele haven Qui traduce Bet el L'altro santuario Sarà distrutto In realtà Iele haven Ha un significato Un pochino più Un pochino diverso Esiste Un'abitudine Nei testi biblici Di Dare un termine Una formulazione negativa A Toponimi Cioè a luoghi A nomi geografici Che contengono Riferimenti All'idolatria O anche a nomi Di persona Per esempio Ish Baal L'uomo del Baal Con cui è chiamato Un certo personaggio Biblico A un certo punto Diventa Ish Boshet L'uomo della vergogna Cioè Cioè Una Come si può dire Una storpiatura Voluta della parola Proprio per Non solo per cancellare Il teoforico Cioè il riferimento All'idolo Ma anche per capovolgere Quest'espressione In una maledizione Nei suoi confronti Quindi il nome dell'idolo Diventa una vergogna La stessa cosa Apparentemente Succede qui Con Bet El Casa di Dio Che in realtà È intitolata Al Dio di Israele Però sappiamo Che è un Dio di Israele Distorto E sappiamo Dell'esistenza Di un altro Otopolimo Che è Bet Aven Aven Può significare Resha Malvagità Hoale Aven Nel Salmo di Shabbat Noi diciamo It Paredur Colpo alle Aven Si sparpaglino Tutti Gli operatori Di iniquità Ma Aven Può anche essere Una variante Di Ayn Alef Yud Nun Invece di Alef Vav Nun La Vav e la Yud Spesso si scambiano In ebraico E Ayn Significa nullità Che corrispondenza C'è fra queste due Interpretazioni? Nell'etica nostra Ciò che è vuoto Ciò che è vano È malvagio Il vuoto Torriceliano Non esiste Non è qualcosa Di neutro Il vuoto Rappresenta per noi Qualcosa di Intrinsecamente Negativo Ecco come la parola Aven In questo caso Può Assorbire Entrambi I Significati Molto interessante Quindi Quel santuario Di Geroboamo Che era chiamato Finora Casa di Dio Diventerà La casa Della malvagità O la casa Della nullità Cioè Dell'annullamento Si annullerà Per l'appunto Il verso 6 Ripete Di nuovo L'invito Di Cercate il Signore E vivrete Pen Pen Itzlach Kaesh Bet Yosef Veach Elah Veen Mechabe Levet El Questo verbo Itzlach È un verbo Anche questo Molto raro Che i commentatori Commentano In vario modo Traducono In vario modo C'è chi lo traduce Affinché Non si accenda Come fuoco La casa Di Yosef Che è il regno Del nord Il regno Di Efra In figlio Di Yosef Naturalmente Sempre a loro Ci rivolgiamo Ma può essere Anche tradotto In maniera diversa Sprigionarsi Salah Da questa radice Incidentalmente Deriva la parola Hatzlach Che in ebraico Moderno Significa successo Cos'è il successo? Qualche cosa Che brilla Qualche cosa Che manifesta All'improvviso Con tutta la sua forza La sua luminosità Non è chiaro Chi è il soggetto Della frase Come la frase Sia costruita Probabilmente Mancano delle preposizioni Che E qui I commentatori Offrono diverse possibilità Non sappiamo Se è la casa Di Yosef Che brucerà Come fuoco O se è Dio Che farà bruciare Come fuoco La casa di Yosef In ogni caso Il fuoco La divora Nessuno lo spegnerà A Betel Qui c'è probabilmente Un'altra critica Ancora La critica Di coloro Che pensano E questo L'abbiamo già visto Che Dio Non distruggerà I suoi santuari Perché si tratta Di suoi santuari Si tratta Di sue dimore Ne avrà rispetto Mentre il profeta Ci vuol far capire Che gli stessi santuari Non resisteranno A fronte Delle trasgressioni Del popolo Che se Dio Vorrà Mandare Un'appelizione La farà Anche a spese Dei suoi stessi Santuari Questo succede Ora Con Betel Gilgal Eccetera Eccetera Succederà 130 anni Più avanti Come sappiamo All'epoca Del profeta Il Miao Con Il Betamikdash Di Yerushalay Anche Nei confronti Del Betamikdash C'era Chi giurava Che Dio L'avrebbe risparmiato Eppure Non è stato così Non è il santuario Quello che conta Quello che conta È Il nostro rapporto Con Kadosh Baruch Questo è in sostanza Quello che Il profeta Ci vuol Dire E con il quale E con questo messaggio Chiudiamo La nostra seduta Di oggi Vi ringrazio molto Della vostra partecipazione E vi do appuntamento Ben Zorat Hashem La prossima Settimana Ci ritroveremo A Dio piacendo Il giorno Di Tu Bishwat Non mancate Mercoledì sera Ai festeggiametti Grazie E in prospettiva Shabbat Shalom A tutti quanti Grazie 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 Grazie